Asus rinnova e rilancia la serie N con il nuovo N56, un notebook multimediale che riunisce stile, eleganza e prestazioni in una diagonale da 15 pollici e con un audio al top sviluppato ancora una volta in collaborazione con gli specialisti di Bang & Olufsen Ice Power. N56 colpisce già ad un primo sguardo. Vincitore del prestigioso Red Dot Design Award propone un elegante scocchi in alluminio spazzolato, mentre sulla cover campeggia il logo Asus retroilluminato. È retroilluminata anche la tastiera con tasti ad isola per un miglior comfort di digitazione anche in ambienti con poca luce. Ma soprattutto all'interno della scocca batte un cuore potente con un processore Intel Core i7 3610QM con 4 core di elaborazione e 6 MB di cache capace di raggiungere i 3,3 GHz di frequenza in modalità turbo e di eseguire fino a 8 thread contemporaneamente grazie alla tecnologia HyperThreading. Il processore Intel Core di terza generazione, qui abbinato ad una grafica dedicata a Nvidia GeForce GT 650M con ben 2 GB di memoria, offre prestazioni al vertice sia nella produttività personale o nella navigazione su internet che con il multimedia avanzato ed il gaming. Con N56 potrete quindi ritoccare foto ed editare filmati, potrete giocare alla grande con i videogiochi più recenti in DirectX 11 e potrete godervi un film in alta definizione grazie al lettore Blu-ray fornito di serie. Lo schermo da 15,6 pollici è disponibile in versione HD o in opzione anche in Full HD ed offre un angolo di visuale di ben 150 gradi ed un'eccellente qualità grazie alla retroilluminazione LED, mentre l'audio Sonic Master Premium con Max Audio 3 ed il subwoofer esterno fornito in bundle garantiscono la miglior qualità audio mai sperimentata su un PC portatile. La tecnologia Instantone e Asus Super Hybrid Engine 2 permettono a questo notebook di riattivarsi dalla sospensione in soli 2 secondi. In questo modo N56 sarà sempre pronto all'uso quando ne avrete bisogno. Asus N56 viene fornito di serie con 8 GB di memoria DDR3 e con un hard disk da 750 GB di capacità e 7200 RPM. Spazio a volontà quindi per dati, applicazioni e giochi. In opzione è previsto anche un disco ibrido sempre da 750 GB ma con integrato un SSD da 8 GB per sveltire gli accessi alle informazioni. Integrata nella cornice dello schermo c'è una webcam HD, mentre la connettività prevede il Wi-Fi N, il Gigabit Ethernet e il Bluetooth 4.0. Ci sono poi 4 porte USB 3.0 con funzione di ricarica rapida, un lettore di schede di memoria 3 in 1, un'uscita HDMI per l'output su TV ed un'uscita audio SPDIF e tutto questo in soli 2,7 kg di peso che comprendono la batteria a 6 celle. Se cercate un notebook multimediale con prestazioni da desktop, un design modern ed elegante e un audio al top, il nuovo serie VPN. Asus N56 è il prodotto che fa per voi. Asus N56 viene fornito con sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium preinstallato. La garanzia è di due anni e per il primo anno c'è pure la formula casco. Microsoft Mechanic